Salve, vi presento oggi la microcamera a bottone con audio. Come vedete la microcamera è composta da un microfono, da un obiettivo e da un bottone. All'estremità abbiamo un jack, con questo jack lo andiamo ad inserire al cavo in dotazione, alle cui estremità c'è il BNC, collegamento audio-video, alimentazione della telecamera. Perciò da questo jack ci inseriamo l'alimentatore, su questo bianco colleghiamo il cavo audio, su questo giallo il cavo video. A questo punto la possiamo collegare dappertutto, o su un videoregistratore tascabile, che non è in dotazione nel kit della microcamera, perciò la microcamera così com'è non può funzionare. Per far funzionare questa microcamera dobbiamo avere un videoregistratore che sia tascabile, o un DVR da base, o volendo la possiamo collegare a un monitor tranquillamente. La microcamera è corredata da questo kit di bottoni, perciò avremo 5 bottoni in totale, di cui uno soltanto col foro centrale, che è per intenderci, che ha il forellino al centro, per poter permettere alla telecamera di inquadrare, e gli altri sono dei bottoni normali, che come vedete non hanno il foro al centro, perciò andranno cuciti sulla camicia, la polo, la giacca, o quello che sia. La telecamera è in vendita presso il nostro sito internet, che è www.spiare.com, o potete acquistarla direttamente qui presso il nostro punto vendita a Roma. Vi ringrazio per averci scelto e vi auguro una buona giornata.